CNU Catania 2017, giorno 1, 2 e 3. Dopo una prima sconfitta con Bologna, la squadra di volley femminile si qualifica per le semifinali contro Torino, battendo Siena e Udine. Fugilato, oro per Bonatti nella 48 kg femminile, argento per Aquino nella 56 kg maschile e tre medaglie di bronzo, guadagnate da Bologna, Cervi e Marchesini. Giudo, eccellente prova e superbo oro per Giulia Pierucci nella 52 kg femminile, seguito da una medaglia di bronzo di Benedetta Sforza nella 78 kg. Rugby, la squadra Sevens del Cus Milano dopo un percorso netto contro Roma, Perugia, Bologna, Catania e Udine si arrende in finale con Parma all'ultima meta, argento per i regbisti Recus Milano.